Non mi stupisce chiaramente che l'opposizione sia contraria perché loro non vogliono risolvere il problema dell'immigrazione illegale, ma io penso di avere il diritto, visto che la maggioranza degli italiani mi ha chiesto di cercare di affrontare questa questione in maniera strutturale, di spendere le risorse dei cittadini per fare quello che i cittadini mi hanno chiesto. Ripeto, la posizione dell'opposizione è un'altra, ma la mia è questa e sto facendo il mio lavoro. Sono risorse spese per risolvere un problema? Vuole sapere quali sono le risorse che si potevano spendere in sanità e che invece non sono servite a risolvere un problema? I 17 miliardi di euro che sono andati nelle truffe del super bonus, soldi tolti ai malati per darli a dei truffatori. Quelle sono risorse che sono state spese non per risolvere dei problemi e che sono state gettate dalla finestra. Se io avessi avuto quei 17 miliardi di euro in più, non dico i 220 miliardi delle risorse sui bonus edilizi, non dico i 120 miliardi delle risorse sul solo super bonus 110%, dico i 17 miliardi di truffe stimate ad oggi. Se io avessi avuto ancora a disposizione quelle risorse, volentieri le avrei messe sulla sanità. purtroppo sono state gettate per regalarle con norme scritte evidentemente male a gente che voleva truffare lo Stato.